Buongiorno Daredo, oggi voglio parlare di Apple, farò un'intera puntata dedicata a Apple che mi sembra la storia più interessante, due storie in realtà tra le più interessanti della scorso fine della settimana, ecco, riguardano Apple. In realtà ci sarebbe anche la storia di Elon Musk che fa causa a OpenAI, sapete che Elon Musk era tra i fondatori di OpenAI, poi ne è uscito, adesso gli ha fatto caso, però quella storia è talmente ridicola e imbarazzante, magari mercoledì che sarà l'unica altra puntata di questo buongiornissimo in questa settimana. Ecco, magari ne parleremo, però vi anticipo che quella roba è davvero ridicola, praticamente Elon Musk sta facendo causa a OpenAI per un contratto che non esiste, che lui afferma che esista da qualche parte, ma in realtà non c'è niente di scritto, erano cose verbali o email strane, vabbè, quella roba magari la vedremo, comunque è abbastanza imbarazzante. Prima di farci nelle Apple News tre annunci. Il primo, mercoledì a pranzo, quindi alle 13.30, pranzo insomma, per qualcuno è pranzo, alle 13.30 faremo la seconda live di Edo, Edo in live, Edo live. Non hanno nomi queste cose, un buon pranzo da Edo, sai, quindi alle 13.30 live di mezz'ora, 40 minuti, un'ora, insomma dipende da quanto riusciamo a fare, in cui leggiamo insieme un po' delle robe che non sono entrate nel buongiorno, tipo questa di Musk potrebbe essere, leggere la lettera che hanno scritto è abbastanza ridicola. Insomma, leggiamo insieme un po' di cose, le commentiamo, magari se c'è qualcosa che non ci torna, lo andiamo ad approfondire e chiacchieriamo anche un po' tra di noi. Quindi in live, mercoledì alle 13.30. Poi altra cosa, domani, Continuous Delivery, alle ore 17, puntata speciale. Se andate oggi sul canale YouTube di Continuous Delivery, trovate la premiere dell'episodio, la premiere dell'episodio. Non vi spoilerò che cos'è, andate a vedere, sarà interessante. Ultima cosa, giovedì e venerdì di questa settimana, quindi 7 e 8 marzo, sono a Firenze per Open Source Day. Avrò un talk il venerdì pomeriggio, il resto del tempo sono in giro, ci possiamo vedere e bere della vodka insieme. Basta, infiliamoci nelle news della giornata. Allora, le news che sappiamo oggi, il 4 marzo 2024, riguardano in realtà una vittoria che abbiamo ottenuto come comunità europea, come utenti e anche come sviluppatori contro Apple. Cioè il fatto che gli abbiamo costretti a ripristinare il supporto alle PWA, quindi le Progressive Web App, che avevano tolto. Ma la storia di come Apple ha tolto le PWA poi non l'abbiamo affrontata in questa rubricona, nel Buongiornissimo, e quindi vado prima a fare un riassuntino, vado a prendere un articolo di 9to5Mac, e vedere come Apple, nelle versioni beta di iOS 17.4, aveva rimosso il supporto alle PWA, alle Progressive Web App. Cosa sono le PWA? Sono quelle app che si possono installare da browser, cioè sono i siti stessi, le pagine web che trovate sui browser mobile o desktop, che si possono installare, tra virgolette, cioè diventano delle scorciatoie che vanno sul desktop del device. Aperte quelle scorciatoie, si apre la pagina web senza il contorno del browser, e questa pagina in realtà poi gode di permessi aggiuntivi, quindi si può comportare quasi come un'applicazione nativa, quindi per esempio ha le push notification e può accedere ad alcune funzionalità del device. Quindi diciamo che per gran parte degli usi di un utente normale, le PWA sono effettivamente, sembrano delle alternative alle app tradizionali. Questo un po' per spiegare il contesto, no? Queste sono le PWA. Ecco, dopo anni in cui Apple si era battuta contro le PWA per ragioni sue, aveva infine ceduto alle pressanti richieste, insomma aveva permesso l'esistenza delle PWA anche su iOS. Poi però, con l'arrivo del DMA, quindi il Digital Markets Act, quindi quella serie di regolamentazioni dell'Unione Europea, Apple, sapete, è stata costretta ad accettare il supporto ad altri browser engine, non solo Safari e non solo WebKit, e questo teoricamente avrebbe consentito anche l'attivazione di PWA su engine diversi da WebKit. Bene, a Apple questa cosa non andava bene e infatti ci si è resi conto che nelle versioni beta di iOS 17.4, che doveva essere pubblicato nei prossimi giorni, Apple aveva rimosso il supporto alle PWA. In questo articolo, che ora vi riassumo, si spiega un po' la vicenda. Quindi, uno degli effetti dei cambiamenti che Apple aveva introdotto per essere compliant con il DMA, quindi il Digital Markets Act, è la rimozione del supporto alle PWA nell'Unione Europea. E Apple ha dato una spiegazione a questa decisione, confermando tra l'altro che non era un bug, che alcuni sviluppatori si sono resi conto di questo bug, no no, ma che era proprio una scelta voluta. E ha spiegato che la motivazione è una motivazione di sicurezza, perché iOS ha fornito il supporto alle PWA, alle Progressive Web App, basate direttamente su WebKit, che è il motore ovviamente di Safari, e quindi sulla sua architettura di sicurezza. Ma, dovendo aprire ad altri browser, queste non potevano più essere allineate con questo modello di sicurezza, e quindi avendo, per esempio, l'isolamento dello storage, o la richiesta di permessi per accedere ad altre funzionalità che impattano anche sull'e-privacy. E siccome in iOS 17.4, che è quello che dovrà uscire in compliancy con il DMA, Apple deve supportare i browser alternativi, allora dice che è stata costretta a rimuovere il supporto, perché, dovendo avere la parità per tutti i browser, per sicurezza non vuole fornire le PWA con browser alternativi, e quindi non le offre nemmeno con Safari, supporto completamente rimosso. Queste motivazioni di sicurezza sono state ampiamente criticate da molti sviluppatori. Io vi invito a leggere in Frequently Noted il blog di Alex Russell, che è uno sviluppatore che adesso lavora in Edge, ha lavorato in Chrome, in Chromium, ha lavorato al V3C, al TC39, insomma è uno sviluppatore che si intende molto bene di browser. Ecco, ha scritto un blog post dove va a demistificare tutte le bugie, che lui chiama così, che ha detto Apple sul supporto alle PWA. In pratica sostiene che la decisione di Apple è soltanto una decisione commerciale, per rimuovere un potenziale favore che fa ai browser concorrenti, non essendone costretta, perché le PWA non sono mai menzionate nel DMA. In questo blog post Alex Russell va proprio a prendere le dichiarazioni di Apple sulle PWA, e va a smentirle uno per uno, dicendo che sono sostanzialmente delle scuse, che non hanno alcuna motivazione tecnica, e sottolineando le impiegazioni negative che hanno per gli sviluppatori, per gli utenti e per tutto il mercato, insomma per la concorrenza, quindi va ad accusare direttamente Apple dicendo che è in mala fede, sta dicendo delle bugie. E alla fine esorta anche gli utenti andare a supportare il lavoro che fa Open Web Advocates, che è OWA. Poi ne sentiremo riparlare di questa organizzazione. È un'organizzazione che supporta il web libero, e quindi fa opera di advocacy appunto con le istituzioni e con le big tech, per ottenere appunto un web più libero, con diritti garantiti per gli sviluppatori e per gli utenti. Questa mossa di Apple non è molto gradita all'Unione Europea, e infatti qualche giorno fa arriva la notizia che l'Unione Europea sta investigando su questa decisione così repentina di Apple. Ce lo dice un articolo di D-Day, del nostro mitico Sergio Donato, che ci illustra un po' questa roba. Vado a leggere. La decisione di Apple di abbandonare le web app nell'Unione Europea su iOS 17.4 ha catturato l'attenzione della Commissione Europea, che potrebbe far partire un'indagine. Lo ha scritto il Financial Times, secondo la quale la Commissione avrebbe inviato a Apple e agli sviluppatori di app richieste di ulteriori informazioni per aiutarla nella valutazione, e, ascoltata da The Verge, la portavoce della Commissione nel settore della competizione di mercato, che è Lea Zuber, ha confermato l'invio di queste richieste. Si parla poi delle decisioni di Apple. Alla base ci sarebbero motivi di sicurezza, dato che, scrive l'articolo, una web app che tecnicamente è un sito web che viene eseguito senza mostrare l'interfaccia del browser, sfruttando il motore del browser predefinito di sistema, non viene controllata da nessuno perché non si scarica nemmeno da un app store e quindi può essere veicolo di software dannosi. Questo naturalmente è quello che sostiene Apple, però abbiamo visto, e se leggerete il post di Alex Russell, vi rendete conto che non è davvero così. I browser sono comunque delle app che fanno della loro sicurezza la mission primaria, quindi devono controllare che i siti e le web app non facciano cose dannose, quindi se ci fidiamo che i browser non lasciano fare queste cose, non solo ci fidiamo, ma controlliamo che i browser non li facciano, tra l'altro gli engines sono open source, quindi c'è un'intera community di sviluppatori che va a vedere che effettivamente i browser non permettano alle app di fare cose cattive, ecco che in realtà quello che dice Apple non è vero. In conclusione, l'articolo menziona anche Open Web Advocacy nella sua opera di lobbying che sta facendo e che abbiamo citato prima. La dichiarazione che riportava D-Day è qua su un articolo di The Verge, è Lea Zuber che dice che stiamo proprio andando a investigare il tema delle progressive web app e conferma che abbiamo mandato una richiesta di informazioni a Apple e agli sviluppatori delle app che ci diano delle informazioni per il nostro assessment. Quindi vedete, prima le PWA non erano oggetto del DMA, non erano state incluse nei pensieri del DMA, però adesso che la vicenda è emersa, insomma l'Unione Europea sta cercando informazioni proprio dagli sviluppatori stessi e poi sta andando a chiedere ad Apple come mai, ecco il perché di questa cosa. Ma appena ad Apple è arrivata la richiesta di informazioni dell'Unione Europea, ecco che cambia improvvisamente idea. Arriva questo articolo di Sergio Donato, sempre su D-Day, che ci informa, che Apple ha deciso di mantenere le PWA su iOS 17.4. Quindi nonostante fossero grandemente preoccupati per la sicurezza delle PWA, sicuramente di colabrodi di sicurezza che avrebbero minato l'esperienza degli utenti su iOS e anche le norme mole di lavoro che avrebbe richiesto l'implementazione di questa feature, ecco nonostante questo, Apple fa marce indietro e cambia idea. Questo è il messaggio sul forum degli sviluppatori di Apple che hanno pubblicato. Dice, in precedenza Apple aveva annunciato i piani per rimuovere la possibilità di installare WebApp sulla home screen dell'iPhone come parte dei nostri sforzi per conformarci al DMA, la necessità di rimuovere la capacità è stata motivata dalle complesse preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy associate alle WebApp per supportare motori di browser alternativi, sarebbero i browser engine, che richiederebbero la costruzione di un'architettura di integrazione nuova che attualmente non esiste in iOS. Anche qua, bugia, leggete Alex Russell che spiega questa cosa. Abbiamo ricevuto richieste di continuare a offrire supporto per le WebApp sull'home screen di iOS da chi? Da tutti. Dall'Unione Europea, dai produttori di browser, dagli sviluppatori, insomma tutti quanti gli hanno fatto notare che questa era una cagata. Quindi continueremo a offrire la capacità resistente delle WebApp. Certo, qui la fanno passare come se quando Apple riceve delle richieste subito risponde e fa quello che gli sviluppatori gli chiedono. Non è assolutamente vero, naturalmente in molti altri casi gli sviluppatori sono scontenti del comportamento di Apple, vedremo una news in proposito anche dopo, Apple non lo fa, però in questo caso probabilmente il suo team legale, ecco si sarà consultata con i legali che gli hanno consigliato ecco di lasciare perdere e andare a offrire questa opportunità. Però, dice, questo supporto significa che le WebApp sulla home screen continuano a essere sviluppate direttamente su WebKit e la sua architettura di sicurezza e si allineano con il modello di sicurezza e privacy, bla bla bla. Ok? Quindi l'azienda garantirà il supporto solo ed esclusivamente per WebKit. Quindi, se anche voi installaste un browser alternativo con il suo engine e vi installaste la PWA del sito che state vedendo su quel browser, la PWA, così come stanno le cose adesso, su iOS 17.4, funzionerà comunque su WebKit, quindi l'engine di Safari. Questa notizia naturalmente la riportano tutti. Il titolo migliore, come spesso accade, ce l'ha The Register che intitola EU-Turn, quindi in versione A e U. Bellissimo, The Register ha sempre i titoli migliori e naturalmente ci va a informare di questa gestione di Apple, ma ci fa anche un breve riassunto sul DMA. Se non ve lo ricordate, ne ho parlato varie volte, quindi adesso credo che riuscirò a mettere il link a scorse puntate dove ho parlato del DMA. E insomma, il DMA è una serie di regole che hanno come scopo il favorire la competizione all'interno del mercato europeo, soprattutto dove è dominato, ecco, dalle big tech. Quindi, lo scorso settembre, la Commissione Europea ha designato sei gatekeeper, che sono Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft, e gli ha chiesto di cambiare alcune cose, prendere il tutto più competitivo, insomma, per creare un mercato dove ci sia più competizione. Questa roba entra in vigore effettivamente il 7 marzo e lo scorso gennaio Apple aveva dichiarato alcuni già cambiamenti nella prossima versione di iOS. Per esempio, ha permesso il lancio di App Store alternative, quindi Store di terze parti alternative a App Store, così come accade su Android. Però, avevamo parlato di questa roba e non è che l'abbiano fatta proprio tutta simpatica. Poi, ha dato la possibilità di accedere all'hardware NFC per i pagamenti, quindi sarà possibile avere app di terze parti che sfruttano il sistema NFC di iPhone e Apple Watch per fare i pagamenti, però non attraverso Apple Pay, attraverso altre app e poi, infine, come abbiamo detto, supportare i browser engine alternativi come quello di Firefox o quello di Chrome. Nell'articolo si cita anche l'opera di OWA, quindi Open Web Advocacy, che è questo gruppo che aveva criticato la decisione di Apple di bloccare le PWA e elencando una serie di app che non avrebbero più funzionato in questo modo perché si basavano proprio sulle PWA. avevano scritto una lettera aperta al CEO di Apple, Tim Cook, chiedendogli appunto di riconsiderare questa decisione e poi scrivendo anche che questa roba avrebbe violato l'articolo 13 del DMA che proibisce di attuare delle misure per girare intorno alle richieste del DMA, diciamo, per renderlo meno efficace. Dopo questa inversione a U, Open Web Advocacy ha detto che, ok, siamo un pochino più contenti, però comunque non abbiamo fatto altro che ritornare allo status quo che c'era prima del DMA. riguardo le PWA, quindi c'è bisogno che Apple supporti maggiormente un web aperto. Le PWA devono essere trattate come sono trattati o saranno trattati i browser engine, quindi con totale libertà. Comunque, OWA e gli sviluppatori non sono gli unici gruppi critici verso i cambiamenti che Apple sta facendo per, diciamo, finitamente rendersi più disponibile e compliant con il DMA. Infatti, Meta e Microsoft stanno già parlando con l'Unione Europea per, diciamo, portare all'attenzione il fatto che i comportamenti di Apple non sono assolutamente pro libero mercato, mettiamola così, e c'è ora la notizia che Spotify, Epic Games e altri hanno scritto una lettera aperta all'Unione Europea per, appunto, fondamentalmente fare la stessa cosa, cioè andare a lamentarsi del comportamento di Apple con i cambiamenti che ha fatto per il DMA. Spotify ha pubblicato la lettera sul suo sito tra le altre compagnie che hanno firmato ecco questa lettera ci sono Epic Games, Proton, Deezer e anche altre. E in pratica dicono che l'apertura di Apple nei confronti del side loading, quindi dell'avere App Store alternativi non rispetta i requisiti del DMA. Per esempio arrivano altre condizioni spesso troppo gravose come il Core Technology Fee di cui avevamo parlato e la lettera chiede alla Commissione Europea di prendere misure per proteggere gli sviluppatori e andare a beneficio dei consumatori. E infine vi riporto questa news che non c'entra molto ma fa capire un po' il clima che si sta respirando in Unione Europea con Apple. Pare che Apple sarà multata di 539 milioni di dollari per un reclamo di Spotify all'antitrust. Infatti Spotify si era lamentata nel 2019 che le politiche di Apple impedivano alle app per iPhone di informare gli utenti su alternative più economiche al servizio appunto di Apple Music limitando proprio la concorrenza. L'Unione Europea ha contestato il rifiuto di Apple di consentire agli sviluppatori di inserire nelle loro app dei link ai siti di registrazione insomma per fare registrazione le subscription che questa roba Apple poi era una cosa che aveva cambiato nel 2022 sotto pressione delle autorità giapponesi che avevano investigato questo comportamento. Questo se lo riporta The Verge un portavoce però di Apple ha detto che l'azienda non vuole commentare queste speculazioni e ha rimandato a precedenti dichiarazioni dicendo che l'azienda spera che la commissione smetta di perseguire questo caso che secondo lui non ha fondamento viceversa un portavoce della commissione europea per adesso si è rifiutato di commentare quindi vedremo però capite che c'è un po' di tensione in Unione Europea e c'è anche un'altra grossa news che riguarda Apple della scorsa settimana cioè il fatto che Apple ha deciso di chiudere il programma Apple Car cosiddetto il progetto Titan ecco ce lo riporta The Verge il progetto di Apple Car c'era noto dal 2017 quando il CEO di Apple Tim Cook aveva confermato ecco l'entrata l'ingresso di Apple nel mercato delle auto a guida autonoma e invece martedì scorso un articolo di Bloomberg ha confermato che Apple ha chiuso definitivamente questo progetto che tra l'altro è stato sempre abbastanza segreto Apple non ne ha mai parlato troppo come conseguenza tutta la forza lavoro che Apple aveva impiegato sul progetto Apple Car è stata spostata alle divisioni di Generative AI e molti naturalmente sono anche oggetto di layoff quindi circa un decennio dopo il lancio di questo progetto chiamato Project Titan Apple insomma è tornata da dove era partita cioè da niente senza avere un progetto Apple Car naturalmente dice The Verge non è una sorpresa che questa decisione arrivi in questo momento storico quando il mercato dei veicoli a guida autonoma insomma sta un po' soffrendo infatti dopo anni di promesse di veicoli a guida autonoma e elettrici quindi a batteria avrebbero dominato il trasporto privato ecco l'industria sta insomma soffrendo parecchio infatti molti investimenti molti investitori anche stanno tirando i remi in barca le fabbriche stanno chiudendo e intere line up sono cancellati per esempio degli attori di primo piano di questo mercato come Rivian e Lucid stanno faticando molto nelle vendite e pare che molto del pubblico si stia rivolgendo ad altri mercati come ad esempio quello delle macchine ibride e molti analisti ritengono che se Apple fosse entrata nel mercato in questo momento storico avrebbe fondamentalmente visto le stesse problematiche la cosa strana è che Apple avrebbe potuto concentrarsi sul software delle auto a guida autonoma poi magari rivenderlo a terze parti invece di cercare di costruire un'intera macchina da zero questo probabilmente era più nelle sue corde però per qualche motivo hanno deciso di non farlo di buttarsi in questo mercato e ora ne hanno sofferto le conseguenze chiudendo il progetto The Verge pubblica anche una cronistoria dell'avventura di Apple nel mondo delle macchine delle auto a guida autonoma si intitola Crash of the Titan A Short History of Apple's Doom Card Project è un lungo articolo che fa proprio va a ripercorrere i passi di questa storia che era conosciuta come Project Titan e è stata sempre abbastanza segreta Apple non ne ha mai parlato molto vi riporto qualche chicca circa otto anni fa il fondatore di Nest Tony Fadel aveva rivelato che mentre stava lavorando ancora in Apple lui aveva parlato con Steve Jobs di questa idea di una Apple Car già nel 2008 e avevano poi concordato che l'idea era molto figa però Apple era troppo impegnata ecco sul suo mercato avevano appena lanciato iPhone iPad e quindi dovevano andare a rinforzare quella linea di business non erano pronti peraltro poi tra l'altro erano impegnate anche nella creazione di Siri sei anni dopo questa conversazione tra Fadel e Jobs le cose per Apple erano molto diverse era l'azienda di più valore al mondo i suoi prodotti vendevano come il pane e quindi era il momento di cercare delle novità per rimanere in scia ecco per sfruttare questo momento positivo di Apple ma provare a lanciarsi anche in altri mercati e spandersi da altre parti quindi l'idea della macchina guida autonoma sembrava super interessante partì così questo progetto e iniziò questo viaggio lungo dieci anni che si è portato poi alla chiusura di oggi c'è proprio una cronistoria che parte dal febbraio 2015 se vi interessa vi lascio anche questo link anche se non siamo nella parte dei link ve lo lascio lo stesso così se appunto volete approfondire un po' vedete mese per mese quasi in tutti questi dieci anni cosa è successo per Apple ci sono anche dei render dei mockup di possibili Apple car ecco renderizzate da alcune riviste e per chiudere davvero vi do due link uno riguarda Apple e uno no quello che riguarda Apple è questo PKL lo trovate su PKL-Lang.org ed è un nuovo linguaggio di configurazione ecco è un linguaggio di configurazione programmabile scalabile safe così viene definito praticamente come potete immaginare a un linguaggio di configurazione come JSON YAML o P-List che è quello delle app iOS ecco qua invece PKL è un'alternativa che rende la scrittura di queste configurazioni più agevole perché ha anche dei costrutti assomiglia un po' a JavaScript in alcuni momenti permette di creare delle classi permette di creare degli oggetti dei cicli for insomma rende la scrittura di queste configurazioni un pochino migliore su PKL-Lang.org trovate tutte le documentazioni insomma le spiegazioni di questo linguaggio chissà potrebbe essere insomma un qualcosa che prende piede potete vedere anche le alternative tra la scrittura di un PKL e la scrittura della stessa configurazione in altri linguaggi insomma vi rendete un po' conto di cosa sta succedendo questo è qualcosa che ha avuto un certo un certo eco nelle gomiti di sviluppatori adesso non ne sento parlare più tanto però ecco ve lo lascio lì intanto dateci un'occhiata PKL-Lang.org e infine c'è questa storia di come SSH ha preso la porta 22 cioè è una cosa che è andata su Hacker News che anch'io non sapevo questa storia cioè perché SSH è sulla porta 22 la spiegazione si trova nella documentazione di SSH e c'è proprio il momento storico in cui i creatori di SSH hanno deciso di andare alla porta 22 ma la storia è molto banale perché i due protocolli che all'epoca erano più utilizzati per comunicare tra device erano Telnet e FTP Telnet era la porta 23 FTP era la porta 21 e quindi loro hanno pensato dovendo fare sempre un protocollo di comunicazione che fosse adatta ecco la porta 22 in mezzo a queste due a quel punto era appunto il 95 quindi non c'erano così tante porte occupate da servizi e internet era nei suoi albori quindi hanno scritto all'autorità che regola i domini e le porte gli hanno chiesto possiamo usare la porta 22 per il nostro servizio SSH e gli hanno detto sì benissimo e quindi loro hanno ufficialmente preso la porta 22 per SSH questa è un po' la storia ve l'ho spoilerata però se volete leggere tutta la lettera e qualche dettaglio in più vi invito alla documentazione proprio di SSH in cui se ne parla SSH.com e poi vi leggete anche questa storia ve lo lascio naturalmente nella descrizione ho finito qui gli avvisi ve li ho già dati quindi basta in realtà ve lo domandolo domattina sul canale YouTube pubblicherò una clip un estratto dalla prima live che abbiamo fatto la settimana scorsa in cui leggo un articolo di Day insomma non ci sarà buongiornissimo perché domani sono a Milano nonostante l'episodio di Continuous Delivery è speciale ci rivediamo probabilmente mercoledì e poi basta perché sono a Firenze grazie per avermi seguito alla prossima ciao